Unicesimo giro polistica tappe dell'Umbria, siamo a Pastignano sul Trasimeno, siamo con Ennio e la prima videoclip riguardante la prima tappa del giro dell'Umbria, Ennio che hai scelto? Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys calling on their way back from the fire, Minnog allocatamente lo surrender to a dust cloud on the rise. A presto 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 A presto